Risparmiatori dell'ormai ex Banca Etruria ancora senza indennizzo ed il tempo ormai si sta esaurendo. Tra meno di un mese infatti scadrà l'operatività della Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori e sono ancora molti coloro che attendono risposta o che hanno ricevuto risposta negativa. Da qui la richiesta di Feder Consumatori Arezzo al MEF di convocare una riunione per esaminare la situazione degli indennizi da parte del FIR. Il lavoro della Commissione e al tempo stesso l'Associazione di Consumatori chiederà ai parlamentari della circoscrizione specifici incontri per sottoporre il caso. Di luglio terminerà l'operatività della Commissione FIR e ancora rimangono 335 domande circa da lavorare che sono tantissime e i cittadini hanno bisogno di risposte perché io voglio ricordare nuovamente per l'ennesima volta ma non ci stancheremo mai di sottolinearlo che sono risparmiatori e non speculatori. Noi ci batteremo, faremo una mobilitazione, chiediamo assolutamente un incontro al MEF ma alla stessa CONSAP e alla Commissione FIR affinché le posizioni di queste persone vengano prese in carico e lavorate quanto prima. Chiederemo anche conto dell'operatività della Commissione perché troviamo increscioso che alcuni cittadini siano state respinte le domande con motivazioni secondo noi arbitrarie. Ricordiamoci doveva decidere sulla base delle violazioni massive e non individuali. Come pure è gravissimo che la Commissione in mancanza di documentazione che ricordiamo la cui fornitura è messa in capo alle banche ma soprattutto è messa in capo la ricerca in capo alla stessa Commissione nel caso in cui la banca non riesca pensiamo che siamo banche cessionarie quindi che sono subentrate con ben due passaggi a Banca Etruria e rispinga la Commissione nel caso in cui la banca non sia riuscita a produrre la documentazione. Noi lo riteniamo gravissimo, è veramente una lesione dei diritti e della giustizia. Io vorrei ricordarlo, l'obbligo di custodire i documenti ce l'ha la banca, non solo. Sta nella normativa FIR l'obbligo di ricercare e di cercare presso altri istituti ma poteva essere anche presso la liquidazione o presso altri organi della documentazione che ponga in capo al risparmiatore, quindi soggetto debole, soggetto che già era stato colpito dalla perdita ulteriormente gli si inputi una responsabilità al risparmiatore? È gravissimo.